Benvenuti a questa presentazione sulle novità di AutoCAD 2024. Durante questa presentazione vi parleremo delle novità di AutoCAD 2024, ma accenneremo anche ai set di strumenti di settore inclusi nella licenza, interessanti per migliorare la produttività, e poi parleremo del maggior controllo che AutoCAD 2024 ci offre sui nostri file e sull'interazione che gli utenti hanno con i file in archivio. Sulla novità riguardante le revisioni molto più immediate e la loro interazione anche con il cartaceo, con le revisioni sul cartaceo e il CAD, parleremo del potenziamento dei blocchi, che è un aspetto molto importante e qualificante di AutoCAD 2024, e delle incredibili novità presenti in AutoCAD LT. I set di strumenti non sono una novità di AutoCAD 2024, ma sono inclusi nella licenza. È opportuno parlarne perché molti utenti utilizzano AutoCAD per disegnare, ma anche per fare molto altro, e molti utenti non sanno che nella loro licenza di AutoCAD sono inclusi gli strumenti di AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Plant 3D, Raster Design e AutoCAD Map, ovvero sia veri e propri software specializzati nei vari settori per incrementare grandemente la produttività. A seconda del tipo di lavoro a cui siete dedicati, potete trovare nel giusto set di strumenti un aiuto valido in AutoCAD. Per esempio, chi opera nel settore meccanico e deve produrre tavole 2D, sa bene quanto nei disegni può essere complicato simulare situazioni tridimensionali con linee nascoste e visibili, e quanto sia anche dispendiosa la modifica dei progetti. AutoCAD Mechanical gestisce situazioni 3D fittizie, aggiornando automaticamente le linee al variare della geometria. Inoltre, ci offre librerie molto ricche di elementi standard, quali viti, rondelle, bulloni, molle, cuscinetti, motori, profili, con la loro giusta rappresentazione in 2D, in modo tale da ottenere disegni coerenti e perfetti dal punto di vista della rappresentazione, oltre a offrirci spesso anche strumenti di calcolo per l'inserimento di questi elementi. Dispone inoltre di molti simboli standard e aggiornati per la documentazione di saldature, trattamenti superficiali, tolleranze, forature, bollinature e quant'altro serve normalmente in un disegno meccanico. E' quindi un software dedicato specificamente a chi si occupa di disegno meccanico che può incrementare incredibilmente la produttività. Ma anche chi si occupa di altri settori, come per esempio la cartografia, il GIS, può fruire degli strumenti settoriali adatti grazie ad AutoCAD Map. Map rende semplici le interazioni fra dati prelevati con sistemi di coordinate geografiche differenti e permette il facile inserimento di dati provenienti da fonti tipiche del GIS, come i server WMS, utilizzatissimi per le ortofoto dagli enti pubblici e regionali, ma anche gli shapefile, uno standard diffuso in questo ambito, e di fatto uno standard universale. L'elenco dei formati GIS che possono interagire con Map è in realtà molto, molto ricco e completo. Inoltre Map permette l'analisi e la tematizzazione dei dati, per rendere chiara e immediata l'analisi dei nostri dati GIS. Chi si occupa invece di architettura, può fruire di AutoCAD Architecture, disegnando come siamo abituati in AutoCAD, proprio come faremo per tracciare delle linee, possiamo creare i muri, in cui inserire facilmente elementi come porte, finestre, solette, o creare facciate continue, scale, travi o pilastri. Gli oggetti creati interregiscono in modo naturale e intelligente, reagendo automaticamente alle modifiche. Ogni elemento architettonico avrà la sua giusta rappresentazione nelle diverse scale, di maggiore o minor dettaglio, il tutto personalizzabile nei minimi dettagli. Nelle rappresentazioni 3D, AutoCAD Architecture ci permette di avere già pronta, partendo dal nostro disegno creato in pianta, la rappresentazione 3D degli oggetti e le viste di sezioni e alzati. L'architecture è compatibile e parla molto bene con il BIM, allineandosi quindi con le ultime tecnologie in campo architettonico ed edile. Oltre a questo, abbiamo strumenti di settore per la progettazione elettrica, impiantistica, per una progettazione di layout industriali, con strumenti specifici molto utili per i vari settori, che danno risposta con oggetti dedicati e procedure adeguate all'ottimizzazione dei flussi di lavoro. Infine, grazie a Raster Design, possiamo fruire della migliore interazione fra le immagini raster e il disegno CAD per un loro completo riutilizzo. AutoCAD 2024 implementa i flussi di lavoro legati alla condivisione e alla revisione dei nostri disegni e migliora anche il controllo che noi abbiamo sui nostri file. In particolare, una grossa novità riguarda le informazioni approfondite delle attività. È oggi possibile capire, per ogni disegno, per ogni file, quali eventi interessanti sono accaduti su quel file, per esempio se è stato spostato, se è stato rinominato, se è stato salvato, modificato, e per esempio anche se è stato utilizzato all'interno di altri dvg come riferimento esterno, avendo anche l'indicazione di quali sono i file in cui è stato utilizzato. Questa funzionalità molto utile sicuramente permetterà di migliorare molto l'interazione fra utenti e, tra l'altro, è possibile anche filtrare gli eventi consultabili, utente per utente o per periodi, in modo tale di avere sempre una sotto controllo quello che è stato applicato al file. Inoltre, sono state potenziate le funzionalità già esistenti che permettono di condividere in maniera efficiente il nostro progetto anche con chi non ha e non dispone di AutoCAD. Infatti, oltre alla già presente nelle versioni precedenti possibilità di condividere delle viste grazie ad Autodesk Viewer che permane ed è veramente interessante perché permette a chiunque, anche non dotato di AutoCAD, di visualizzare i nostri progetti grazie a un semplice link condivisibile su internet e anche di stampare il progetto. Ebbene, molte persone, appunto non disponendo di AutoCAD, attuano poi le revisioni manualmente sulla carta stampata. Questa modalità è ancora molto diffusa e nelle ultime due versioni AutoCAD è stato potenziato proprio per permettere una migliore interazione della revisione su carta stampata con il CAD. Oggi come oggi, con AutoCAD 2024, questa possibilità è stata ulteriormente potenziata, quindi oltre all'inserimento automatico e al posizionamento automatico delle revisioni cartacee sopra al disegno CAD, già presente nella versione precedente, oggi questa funzionalità è stata arricchita sia da una migliore visualizzazione, un miglior controllo della visualizzazione, ma soprattutto da un potentissimo CR, cioè un riconoscimento automatico dei caratteri e delle scritte, scritte a mano appunto, per sia convertirle in testi e annotazioni all'interno di AutoCAD, sia sostituire annotazioni esistenti. Man mano che applichiamo le revisioni, sfumando le parti riconosciute come appunto cartacee, quindi importate da fotografie o da una scannerizzazione, potremo quindi anche selezionare un testo scritto sulla carta e per aggiornare con questa scritta dei testi già esistenti all'interno di AutoCAD, oppure potremo semplicemente inserire la scritta annotata sulla carta all'interno del disegno. Questo permette sicuramente una migliore interazione della CAD con le revisioni cartacee, che appunto, come dicevamo, sono ancora molto diffuse in molte situazioni, e potenzia quindi una migliore interazione con gli utenti che non hanno e non dispongono di AutoCAD e quindi devono interagire con noi grazie a un feedback su carta. Questa funzionalità, quindi già presente nella versione precedente, oggi potenziata, permette sicuramente una migliore condivisione. Anche i blocchi di AutoCAD sono stati potenziati in questa nuova versione di AutoCAD 2024. Oltre ai conteggi veloci già presenti nella 2023 e utilissimi, con anche il riconoscimento dei blocchi esplosi per tenere sotto controllo la coerenza del disegno e il relativo conteggio, e la possibilità, quindi, una volta sistemato il disegno, di inserire tabelle riassuntive anche, oltre ad avere un conteggio al volo, quindi funzionalità veramente comodissima, semplicissima da usare e potentissima per chi ha la necessità di fare conteggi o considerazioni quantitative sui blocchi inseriti, sono state potenziate anche altre funzionalità relative ai blocchi. Oggi è possibile inserire in maniera intelligente i blocchi in modo tale che AutoCAD capisca il posizionamento automaticamente basandosi sugli blocchi già inseriti. In questa maniera rimane facilitato l'inserimento dei blocchi che verranno posizionati in maniera automatica basandosi sulle rispettive distanze da elementi già presenti in maniera analoga a blocchi già inseriti dello stesso tipo. Questa modalità di inserimento, veramente comoda, permette di avere rotazioni automatiche, specchiature automatiche, posizionamenti automatici a distanze fissate, il tutto grazie all'intelligenza artificiale applicata al CAD. Il riconoscimento dei contorni e dei posizionamenti ci permette di risparmiare molto tempo e tra l'altro risolve anche un annoso problema quello delle unità errate o delle scalature errate poiché anche in questo caso, anche nel caso di scale non corrette per i blocchi, AutoCAD sarà in grado di riconoscere il blocco scalato non correttamente scalarlo in maniera analoga agli altri già inseriti. Un'altra novità introdotta in AutoCAD 2024 è la possibilità di sostituire alcuni blocchi esistenti con degli altri blocchi. Questo ci permette di non dover cancellare i blocchi errati e rinserirli da capo. Grazie a un riconoscimento automatico della tipologia e della forma del blocco AutoCAD ci propone automaticamente una volta che abbiamo avuto accesso al comando di modifica che può essere attuato sia su un singolo blocco che anche su molti blocchi già inseriti con lo stesso nome ebbene ci permette di avere un suggerimento su quali possono essere i blocchi più indicati per la sostituzione andando a analizzare i blocchi recenti. Questo nuovo comando sarà sicuramente molto apprezzato da chi deve apportare modifiche frequenti ai disegni. Anche AutoCAD LT 2024 ha decisamente presentato delle innovazioni assolutamente interessanti. Vediamo insieme di che cosa si tratta. AutoCAD LT in quanto versione Lite di AutoCAD è sempre stato caratterizzato dal fatto di avere qualche comando in meno rispetto ad AutoCAD in particolare il 3D e la programmabilità. Bene, questo secondo scoglio è stato superato con la nuova versione di AutoCAD LT che ora permette di caricare tramite il comando carica applicazioni in maniera analoga a quanto si fa in AutoCAD dei programmi sviluppati in Lisp proprio per AutoCAD. Questo permette di aggiungere nuovi comandi ad AutoCAD LT di automatizzare procedure per esempio ottenere numerazioni automatiche esportare dati in Excel ma anche molto altro visto che sono disponibili in rete o all'interno delle aziende già moltissime risorse in Lisp per automatizzare le procedure e che grazie alla programmazione potremo aggiungere nuovi comandi in AutoCAD LT inizialmente non previsti nella distribuzione che Autodesk ci fornisce. Questo porta AutoCAD LT a un livello superiore per quanto riguarda anche l'interazione all'interno dell'azienda quando ci sono utenti che utilizzano la versione Full e utenti che utilizzano la versione Lite che potranno interagire in maniera molto più completa grazie alla personalizzazione e alla programmabilità di quest'ultima versione di AutoCAD LT è una novità veramente importante. Bene, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito fino a questo punto e spronarvi a provare le nuove versioni di AutoCAD AutoCAD LT e degli strumenti di settore per capire quale sia lo strumento più adatto alle vostre esigenze. Grazie a tutti.